Ciao amici, oggi parliamo di una cosa strana. Usciamo un po' dal seminato di Sanremo e andiamo su un altro tipo di credenze e tradizioni. Oggi parliamo così incidentalmente, ma come libro, senza entrare nella storia della religione, ma come avete visto dal titolo, di Vangeli Apocrifi. In particolare questa è l'edizione in Audi Biblioteca, 18 euro l'ho comprato ieri perché sono ancora in offerta per qualche giorno, quindi l'ho pagato 14 euro. Perché parliamo di Vangeli Apocrifi? Principalmente dal mio punto di vista, perché fanno molto ridere e credo nessuno si offenda perché sono apocrifi. Che cosa sono i Vangeli Apocrifi? Sono una grande quantità di testi, in particolare del Nuovo Testamento, ma esistono apocrifi anche per quanto riguarda l'Antico Testamento, comunque parliamo solo quelli del Nuovo Testamento, sono Vangeli che non sono accettati nel canone. Diciamo, diamo questa definizione semplicistica, comunque se leggete il libro all'inizio vi spiega tutto, che cosa si intende esattamente con il termine, da dove deriva, dal greco, eccetera, eccetera. Perché sono nati questi libri? Adesso ovviamente io non sono uno storico delle religioni, anzi vorrei magari, non so, il Dottor Cuscito, se qualcuno lo conosce, di Cuscito Ergosum, potrebbe parlarne perché sono certamente interessanti proprio dal punto di vista critico, ma sono dei libri che sono stati scritti, alcuni nello stesso periodo dei Vangeli Canonici, altri invece successivamente, per far fronte ad alcune esigenze. Tendenzialmente esigenze di dottrina, ad esempio la Virginità di Maria, il Proto Vangelo di Giacomo, ad esempio, è nato così, che è il primo che viene presentato qui, ma di cui oggi non parliamo, oggi parliamo invece di uno bellissimo, che sono i Vangeli dell'infanzia di Gesù, e in particolare gli Pseudo Vangeli di Tommaso, perché ci sono vari testi, purtroppo su internet ne ho trovato solo uno, che adesso vi faccio vedere, perché ha dentro delle cose incredibili, parlano dell'infanzia di Gesù appunto, è una cosa che nei Vangeli non c'è, nei Canonici non c'è, e quindi questi, diciamo, sopperivano un po' a quel tipo di mancanza. Poi il perché nei Vangeli Canonici non ci sia questa parte, non sono la persona adatta per parlarne, ma sono comunque certamente discorsi interessanti, soprattutto che voi siate credenti o meno, ecco, insomma, sono certamente interessanti. Comunque sia, quindi questi Vangeli non sono accettati direttamente dalla Chiesa, ma alcune cose i vi presenti sì, non di questo in particolare, ma ad esempio quello che dicevo prima del Proto Vangelo di Giacomo, alcuni, i nomi ad esempio dei genitori di Maria vengono comunemente accettati nel Catechismo. Magari vedremo altri Vangeli, in futuro adesso per ora ci concentriamo su questo, perché ha degli elementi della vita di Gesù che sono incredibili. Ha degli elementi sia gnostici, gnostici, perché esiste anche questo che ho, in realtà sono contenuti in questo volumone, ma questo della Delphi è bellissimo, che contiene solo i Vangeli gnostici, che sono appunto Tommaso, Maria, Verità e Filippo. Ma oggi ci basiamo invece su questa versione qua. Allora, Vangelo dello Pseudo, Tommaso, sono tutti piccoli, adesso non so se sono magari non interi o qualcosa del genere. Adesso vi faccio vedere intanto quello che ho trovato su internet. In particolare ci parliamo della versione greca. Ok? Allora, Gesù e i passeri. Questa parte qui, ok? E dopo ne ne discutiamo. All'età di cinque anni questo ragazzo stava giocando sul greto di un torrente, raccoglieva in fosse le acque che scorrevano e subito le rendeva limpide, comandandole con la sua sola parola. Con la sola sua parola. Impastando argilla molle, fece dodici passeri. Quando fece questo, era un giorno di sabato. C'erano pure tanti ragazzi che giocavano con lui. Un ebreo, vedendo quanto faceva Gesù giocando di sabato, andò subito a riferirlo a suo padre Giuseppe, che rompì palle comunque. Ecco, tuo figlio è il ruscello. Ha preso dell'argilla e ne ha formato dodici uccellini, profanando il sabato. Giuseppe, recattosi sul posto, vide e lo sgridò, dicendo, perché di sabato hai fatto queste cose che non è lecito fare? Ma Gesù, battendo le mani, gridò i passeri dicendo loro, andate. E i passi se ne volarono via cinguettando. Ok, qua, diciamo, ci sta un miracolo molto semplice, che appunto sapete di tutti qual è il primo miracolo che è presente invece nei Vangeli canonici, questo è il primo invece dei Vangeli apocrifi. E fino a qui, niente, ha creato degli uccelletti e gli ha dato la vita. Poi tra l'altro vanno via cinguettando, perché dice qua chi commenta l'edizione dell'Einaudi, perché Gesù è la parola, logos, quindi cinguettando. E' proprio un riferimento diretto alla dottrina e serviva a chi utilizzava questo testo per divulgare questo tipo di informazione. Comunque sia. E fino a qui ci siamo, no? A questa vista, gli ebrei, presi da stupore, andarono a raccontare ai loro capi quanto avevano visto fare da Gesù. C'è gente che comunque non si tiene le cose per sé. Gesù è il figlio di Anna. Ma il figlio dello scriba Anna se ne stava là con Giuseppe e preso un ramo di salice faceva scorrere via le acque raccolte da Gesù. Quando Gesù vide ciò che accadeva, sdegnato gli disse, o cattivo e in più insensato, che violenza, che male ti hanno fatto le fosse e le acque? Tu pure. Ecco che ti seccherai come un albero. Non metterai più foglie, più radici, più frutto. Adesso qua non so perché c'è scritto N, ma nel testo originale c'è. Quindi lo maledice, gli dice che ti seccherai come un albero. Ok? Quindi lo trasforma in un albero. Poi questo è ovviamente un significato allegorico nel quale non ci addentriamo al momento. Comunque sia, che è la maledizione del fico, tra l'altro, che è presente anche nei Vangeli Canonici, ma in maniera allegorica e in maniera diversa. Subito quel ragazzo si seccò tutto. Quindi gli succede davvero. Mentre Gesù partì e andò a casa di Giuseppe, i genitori del ragazzo, rimasto secco, lo tolsero via, piangendo la sua tenera età. Lo portarono da Giuseppe e lo rimproveravano. Perché è un figlio che fa tali cose? Gesù urtato da un ragazzo. E così è proprio il testo, è così, susseguirsi di questi eventi, parabole, eccetera, eccetera. Dopo di ciò camminava per il villaggio quando un ragazzo, correndo, andò a urtare contro la sua spalla. Ok, cose che possono succedere, tenendo conto che ho Gesù qua a sei anni, qualcosa del genere. Gesù irritato gli disse non percorrerai tutta la strada. E subito cadde morto. Eh, madonna, che violenza. Ma alcuni, vedendo ciò che accadeva, dissero Dove è nato questo ragazzo che ogni sua parola è un fatto compiuto? I genitori del morto, andati da Giuseppe, lo biasimavano dicendo Tu che è un simile ragazzo non puoi abitare nel villaggio con noi a meno che non gli insegni a benedire e non a maledire. Egli infatti fa morire i nostri ragazzi. Ebbene, vorrei pure vedere che lo volete tra di voi, insomma. Giuseppe, chiamato il ragazzo in disparte, lo ammoniva dicendo Perché fai tali cose? Costorono e soffrono, ci odiano, ci perseguitano. Quindi Giuseppe sembra quasi una persona intelligente. Gesù rispose e questa è una frase gnostica, di difficile interpretazione, ma comunque sia Io so che queste due parole non sono tue. Tuttavia starò zitto per te. Ma quelli porteranno la loro punizione. E subito gli accusatori diventano ciechi. Quindi ne ha uccisi in una pagina, ne ha uccisi tre e ne ha resi ciechi migliaia. Bene. Quanti videro questo? Si spaventarono molto. Eh, minchia, vorrei anche vedere. Restarono perplessi e dicevano a proposito di lui che ogni parola che pronunciava buona o cattiva che fosse era un fatto compiuto e divenne una meraviglia. Eh, insomma, quasi pure inquietante. Vedendo che Gesù aveva fatto una tale cosa, Giuseppe si alzò e gli prese l'orecchio e gli lo tirò forte. Il ragazzo allora si sdegnò e gli disse A te basti cercare e non trovare. Questa è un'altra frase sempre di interpretazione gnostica per il fatto che Giuseppe è comunque un po' superiore alla gente normale perché lui quantomeno cerca anche se non capisce. Cerca la verità e di capire che cosa sta facendo Gesù. Veramente non hai agito in modo sensato non sai che sono tuo non mi molestare. E fino a qui. Poi qua c'è la parabola di Zaccheo anche questa è sempre bellissima perché adesso la vediamo magari nel testo B perché mi sembra più bello che non c'è su internet quindi ve lo leggo direttamente da qua dalla traduzione B appena la trovo dal libro perché secondo me è più bellina fa più ridere. L'indomani e gli prese per mano e lo condusse da un rabbino di nome Zaccheo parlo ovviamente di Giuseppe maestro prendi questo bambino e insegnali le lettere e l'altro disse affimitamelo pure fratello e io insegnerò le lettere e lo persuaderò a benedire non a maledire Gesù all'udire di ciò si mise a ridere e disse loro voi dite quello che sapete ma io ne so più di voi sì ma stai calmo perché esisto da prima di tutti i tempi e io so come furono generati i padri dei vostri padri e so quanti sono gli anni della vostra vita un po' saccente ma ho conosciuto gente simile ognuno all'udire di ciò rimase stupito e ancora Gesù disse loro mi stupite perché io ho detto che so quanti sono gli anni della vostra vita in verità io so quanti ne ha il mondo ecco ora voi non mi credete ma quando vedrete la mia croce allora crederete che io dico il vero ecco questa è una frase certamente non reale della fase di di vita di Gesù giovane e quasi metafisico ed egli udendo queste cose rimane solo stupiti ok ora Zaccheo avendo scritto l'alfabeto in ebraico gli disse alfa e il bambino ripete alfa e di nuovo il maestro alfa e il bambino lo stesso e qua va bene gli sta insegnando l'alfabeto perché pensano che sia intelligente va bene ma attenzione la supporenza di Gesù poi ancora il maestro per la terza volta alfa allora Gesù guardando in faccia il maestro gli dice tu non conosci nemmeno l'alfa come puoi insegnare ad un altro la beta e cominciando dall'alfa il bambino recitò da solo le 22 lettere e fa un prodigio dopo egli disse sta a sentire maestro la costituzione della prima lettera impara quante aperture e quante linee ha e trattini che parimenti divergono e convergono quando Zaccheo udita le descrizioni di una sola lettera sbalordito non sapeva a che cosa risponde gli è rivolto sia Giuseppe e gli disse oh fratello in verità questo bambino non è nato su questa terra portalo quindi via da me e qua continua continua così direttamente adesso questa qua dice comunque cose simili ok eccolo qua adesso c'è in questa versione nel testo B è scritta in maniera un po' diversa ma comunque si andiamo a vedere Gesù che gioca sulla terrazza anche questo è un altro capolavoro Gesù gioca sulla terrazza alcuni giorni dopo mentre Gesù giocava sulla terrazza di un tetto uno dei bambini che giocavano con lui cadde dalla terrazza e morì a parte che che moria ci doveva essere in questi villaggi vabbè e venuti i genitori del morto l'accusavano di averlo gettato Gesù e beh vorrei vederne ha uccisi cento ma quelli lo maltrattavano Gesù allora discese in fretta giù dal tetto si fermò davanti al cadavere del ragazzo e disse a gran voce Zenone e questo era il suo nome alzati e dimmi sono io che ti ho gettato giù e subito alzatosi rispose no signore tu non mi hai gettato giù mi hai risuscitato i presenti rimasero attoniti mentre i genitori del ragazzo glorificavano Dio per il segno avvenuto adorarono Gesù poi qua va bene c'è la storia di uno che si taglia il piede Gesù quindi è benevole malevolo questo Gesù insomma se la canta se la suona Gesù portala qua con il mantello non è un grande lo potete vedere qui non è un grande miracolo secondo me Gesù ah c'è un altro bello adesso appena lo troviamo eccolo qua Gesù aiuta il padre ecco un'altra cosa tipica dei vangeli apocrifi è il fatto che Giuseppe non sia capace a fare un valegname e questo mi fa sempre molto ridere perché sembra un coglione vabbè Gesù aiuta il padre suo padre era falegname che tu dici c'è comunque lo fa di lavoro non è che lo fa per divertimento e in quel tempo faceva aratri e giochi una persona ricca gli ordinò di fare un letto ma una delle assi quella trasversale era troppo corta e Giuseppe non sapeva che fare il ragazzo disse allora per terra le due assi pareggiole da una delle parti Giuseppe fece come gli aveva detto il ragazzo gli pose dall'altra parte e farò l'asse più corta e la tiro a re nella uguale all'altra ok quindi gli ha allungato l'asse e mi fa ridere perché Giuseppe spesso in questi vangeli magari ne vedremo qualcun altro in futuro e non riesce mai a fare le cose giuste cioè taglia sempre le cose di dimensioni sbagliate cioè le sedie che traballano poi vabbè qua Gesù va da un altro da un altro maestro se sai bene le lettere qua gli racconta la vita e la morte e il miracolo il terzo maestro andò a scuola perché volevano che studiassi insomma Gesù e Giacomo Giuseppe inviò poi suo figlio Giacomo che è il fratello di Gesù anche un'altra figura molto presente nei evangelii apocrifi che invece nei canonici non c'è o comunque forse è tradotto in maniera diversa adesso questo non lo so esattamente comunque si in questo caso sembra essere proprio il figlio di Giuseppe poi se qualcuno ne sa di più me lo faccia sapere comunque si anche questa mi fa sempre molto ridere perché ha un finale strano ecco Giuseppe inviò poi suo figlio Giacomo a raccogliere la legna e a portarla a casa lo seguì il ragazzo Gesù ora mentre Giacomo raccoglieva la legna una vipera gli morse la mano dolorante era in procinto di morire quando si accostò a Gesù soffiò sulla morsicatura e il dolore subito cessò ok salva la vita di suo fratello ok la vipera crepò e Giacomo fu guarito istantaneamente la vipera in realtà nella traduzione che c'è qua che fa il che fa questo testo esplode aspetta appena lo trovo ve lo dico aspetta un secondo eccolo qua la vipera scoppiò e immediatamente Giacomo rimase guarito Gesù è suscita un operaio ok che giaceva morto e gli ha preso la mano niente di che la folla comunque è stupita e dice ragazzo del cielo perché hai salvato molte anime dalla morte si mani ha uccise anche tante in verità sembrano dimenticarsi di queste cose qui poi a 12 anni vanno vanno al tempio va bene questo c'è anche una cosa molto simile forse nei Vangeli classici basta per intanto ci fermiamo qua ci sono tante altre cose belle c'è quella del sasso adesso vediamo se c'è qualcosa presente solo qua magari in un testo B o nel testo latino vediamo se lo trovo se trovo qualcosa di decente cioè di utile di bello allora dopo questi fatti chissà quali avvenne che nel vicinato di Giuseppe morì un bambino che era malato e sua mamma piangeva disperatamente Gesù quanti bambini morivano tra l'altro vabbè Gesù sentì che c'erano grandi lamenti e agitazione corse là in fretta e trovato il bambino morto gli pose una mano sul petto dicendo dico a te bimbo non morire ma vivi e resta con la tua mamma e subito quello si guardò attorno e sorrise così poteva forse ucciderlo quando diventava più grande adesso non so perché voleva salvarlo disse allora Gesù alla donna prendilo e dagli il latte e ricordati di me vedendo questo le persone che erano presenti si stupirono e dissero davvero questo bambino era un angelo di Dio perché ogni sua parola era un fatto compiuto e Gesù uscì di là e si mise a giocare insieme ad altri bambini forse ne uccise dieci chi lo sa torniamo torniamo in torniamo qui allora quindi secondo me è capolavoro cioè alcune di queste cose mi fanno ridere un sacco poi ovvio sono interessati dal punto di vista proprio del testo scritto in quel periodo che quindi racconta le credenze le speranze le idee che avevano all'epoca e quali erano i loro obiettivi cercare di capire perché hanno scritto determinate cose perché si soffermano sui determinati argomenti e non altri adesso io poi ovviamente non ho le conoscenze storico o religiose per rispondere a questa cosa però mi fanno comunque molto ridere quindi ve ne leggerò anche altri in futuro fatemi sapere se avete mai letto qualcosa di apocrifo e noi ci vediamo alla prossima andate in pace